Mentre andava in onda la sigla, io con i miei ospiti cercavo di capire come funziona questo sistema complicato della depurazione, perché noi è vero, constatiamo che qualcosa non funziona quando l'estate andiamo al mare e vediamo il mare sport, ma questo problema è qui le alghe, poi la cosa, poi le correnti, poi quell'altro, però all'origine di tutto secondo me la depurazione no? Sì direttore, io tra l'altro ho una serie di documentazioni che danno visibilità a una sorta di emergenza vera e reale che in questo dibattito sul sistema depurativo pone in essere questioni vere, il problema da dove parte? Volendo assumere una premessa nella discussione che ci porta poi rispetto anche alla vertenzialità del rapporto tra la GECO e i lavoratori che in questo momento... Poi parliamo del Vallegrati, poi parliamo di tutto ciò che... La crisi vera del sistema depurativo calabrese è ormai datata, sono 15-20 anni che la regione Calabria, il sistema istituzionale calabrese non offre una risposta in questo ambito, tant'è che è l'unica regione italiana a non avere la governance in questo ambito. Ed è il rapporto tra questa, tra le politiche istituzionali e regionali e il sistema depurativo bloccato che fa sì che l'Unione Europea anche nel 2016 ha penalizzato ancora una volta sulle politiche degli investimenti un'ennesima infrazione, un'ennesima multa. Tra l'altro abbiamo pagato nel 2016 60 milioni rispetto al mancato investimento dei fondi relativi alla depurazione. Questo è uno delle 60 milioni nel 2016. E per il 2017, per i fondi legati all'attrasferimento di risorse europee, sempre legati al sistema depurativo, si rischia di vanificare ancora una volta il mancato avvio del sistema depurativo calabrese. Ma perché, secondo me, il segresto come mai non venga preso in esame seriamente questo problema legato alla depurazione? Perché tutti ne parlano, tutti ne discutono, ci sono iniziative, alcune volte lo devono e si fa il punto della situazione. Io ho avuto modo di parlarne con il responsabile regionale, il quale mi diceva proprio questo, c'è ancora siamo lontani da raggiungere il punto di normalità in questa terra. Ciò significa che abbiamo un sistema che non garantisce più. Certo. Guarda, direttore, il quadro generale dentro il quale si muove questo aspetto è legato alla mancanza di un'idea sullo sviluppo del sistema calabrese. Perché parlare di sistema idrico integrato e parlare di costituzione dell'ambito di gestione e di governo fa sì che le responsabilità istituzionali assumano scelte di merito rispetto alle politiche di sviluppo. Sostanzialmente vi è una mancanza di volontà politica che determina sostanzialmente una razionalizzazione del sistema e un governo delle politiche anche imprenditoriali e di governo delle questioni rispetto a interessi di parte. Ma secondo te funziona o non funziona? Non funziona. Al momento è bloccato, al momento è fermo. Anzi, ad oggi non è ancora partito. Tant'è che il sistema idrico calabrese, cioè l'AIC, che dovrebbe essere l'autorità di governo di questo sistema, nel mese di settembre aveva determinato un impegno per la costituzione della governanza e quindi dell'autorità di gestione. Però per vicissitudine di interesse nella politica e per un rapporto di forza tra comuni e comuni, l'idea delle disponibilità è venuta meno perché ci sono interessi che regolano chi deve governarlo, chi deve determinare la gestione dell'amministratore, l'amministratore controlato, il presidente, il consiglio di amministrazione, i vari equilibri che si determinano nel rapporto istituzionale. D'accordo, ma ci possono anche stare queste cose, però se tu offri un servizio che i cittadini possano trarre beneficio, invece non è così, perché il mare continua ad essere sporco, che se ne dica è vero, meno rispetto agli anni scorsi, però in alcune aree della nostra regione il mare va veramente schifo, l'acqua del mare va veramente schifo, ciò dobbiamo dire, perché se no ci prendiamo in giro. E allora questo dipende dal fatto che in alcuni comuni forse è il sistema della depurazione o non è adeguato a quelli che sono i volumi di vacanzieri in quell'area, oppure non funziona, o funziona a singiozzo. Se è vero come è vero che anche la magistratura più volte è intervenuta, più volte in alcune aree della nostra regione ha come dire sigillato i depuratori, perché non svolgevano il compito per i quali sono preposti. Sì, ma di fatti direttore, quando io prima accennavo a un'idea delle politiche infrastrutturali in questa regione, quello che ci danneggia e fa carico delle responsabilità alla politica calabrese e anche alla stessa giunta regionale è la mancanza di un'idea che porti a governare i processi di sviluppo nel rapporto di denuncia che anche la vostra emittente in quest'ultimo periodo, da agosto in poi, ha denunziato rispetto al turismo, al mare pulito, alle inefficienze che la depurazione non riesce a dare in questo ambito. Ma se lei pensa sostanzialmente che il quadro d'insieme tra il sistema idrico integrato e le politiche di sviluppo sono legate a un'idea dello sviluppo del settore dell'agricoltura. La depurazione e la trasformazione delle acque reprue in acque per uso per l'agricoltura e per il sistema della bonifica sono uno degli elementi fondamentali per la viena di Sibeli, ma così come per tutto il territorio calabrese. Un periodo come questo dove gli elementi della difficoltà e della siccità hanno determinato anche per un'altra avvertenza e una difficoltà che riguarda la Sorical, una non disponibilità nel determinare scelte di merito. La stessa liquidazione sorical oggi più che mai si avvia verso una non soluzione del problema. È un governo del commissario che non determina scelte perché la mancata costituzione, lo ripeto, dell'autorità idrica calabrese non fa fare le scelte rispetto al sistema integrato. È stata annunciata, è stata votata, è diventata legge, però mettere insieme i quadri necessari per far funzionare la macchina, beh... Ce ne vuole, ce ne vuole, tant'è che il 7 di settembre, il 7 di ottobre doveva costituirsi e una non si è fatta. Proprio per dare un'idea di che valore ha, che funzione svolge il sistema della depurazione, al Valle Crati c'è un depuratore, no? C'è un vero depuratore, consortile. Quanti comuni... Sono 39 comuni che sono allacciati al depuratore di Valle Crati. Consorso Valle Crati, diciamo. Eppure quanto? Eppure quotidianamente sui 4400 metri cubi a ora. Che vanno a fine naturalmente tutte? Sì, tutte le libiate, c'è il processo delle libiate, giustamente poi esce fuori, diciamo... Ma le libiate poi viene utilizzate anche in agricoltura? No, questa potrebbe essere, come no, sarebbe una cosa veramente utile, non viene utilizzata. No, il problema è questo, direttore. Secondo me, è proprio come diceva Gaetano, non riescono a mettersi d'accordo, diciamo, questi politici, questi amministratori... Ma quest'acqua poteva essere utilizzata per l'agricoltura, no? Sì, come no, è detto, sì, sì, sì. E' depurata a tal punto che può essere in qualche modo... Lì è utilizzata per l'agricoltura. Però non le utilizziamo? No, non le utilizziamo, ma durante nel fiume, se ne va lungo il fiume Crati, diciamo, che poi esce, sbocca la Sibere, quella parte di là. Questa. Cioè, gli agricoltori hanno difficoltà ad irrigare i cani. Oggi, sì, con la crisi idrica che c'è, la siccità... Ma nessuno pensa a una cosa del genere. Venuti da voi e dicono, ma scusate, si può fare qualcosa? No, ma... Penso che ci sono ingegneri, ci sono geologi... Ho capito, dico, ma chi ha il posto di comando? Ma non siamo noi questo addirittura. Dico, ma chi è il posto di comando? Ma il posto di comando evidentemente non ci arriva, non ci vuole arrivare. Non lo so, non lo sappiamo. Noi siamo veramente in crisi forti, non riesce a capire. Perché io penso che oggi, in Calabria, chi sa gestire, chi sa operare in questo settore, in questo settore, siamo pochi. Siamo pochi, veramente tecnici specializzati, perché capiamo veramente la gestione di un impianto, le problematiche quotidiane, eccetera, eccetera. Purtroppo qui i fondi ci sono, direttore. Il problema è se non ci fossero i fondi, ma i fondi ci sono. Ci sono 35 milioni di euro da spendere per questo impianto. No? Fermi, ingessati. Sono lì. Sono lì. La regione Calabria li tiene lì. C'è un'azienda che ha vinto un appalto. Basta soltanto fermare una concessione. No? Basta fermare la concessione. E ancora lì ferma, che ancora non si decide chi la deve fermare, perché non la devono fare. Ma così si aveva l'impianto, si possono fare quei ragionamenti di recuperare l'acqua per l'agricoltura, eccetera. Altri comuni che non sono allacciati a questi impianti si possono allacciare. Poi c'è il problema. Quanti sono gli addetti alle depurazioni? Sì, c'è un dato che tra l'altro... No, no, al di là del complessivo. Complessivamente nella provincia di Cosenza, ma più in generale, sono quasi 1000-1500 nella provincia di Cosenza che sono operatori nel settore. Che sono impiegati nei vari disarticolati, come dire, impianti di depurazione, non governati da una politica di coordinamento e legati a uno sfruttamento del rapporto tra la precarietà del lavoro e l'utilizzo delle maestranze in questi piccoli impianti. che comunque garantiscono un limite di depurazione in ambiti molto particolari, cioè nei mesi... Poi in un'area gestisce una società, in un'altra società, in un'altra ancora... Certo, c'è una babbele di articolazioni, ma anche per questo l'autorità idrica calabrese dovrebbe costituirsi, dovrebbe determinare un'idea di programma su tutto il territorio provinciale. Tanto è vero che i 42 comuni designati e destinati a governare questo processo, oggi rimangono bloccati, il sistema rimane bloccato e probabilmente le politiche su questo settore rimangono politiche non realisticamente concretizzate. Vi è direttamente una responsabilità diretta della politica, vi è una responsabilità anche della giunta regionale in una vicissitudine sulla quale politiche di sviluppo in questo settore rappresentano grandi problemi di sviluppo. Un'occupazione precaria fatta da 1.000-1.500 dipendenti potrebbe, in un regime di investimento nel medio e breve periodo, occupare altre migliaia di lavoratori, perché è un settore che ha grandi potenzialità, un settore che investe l'idea dello sviluppo calabrese, territorio. Per esempio, da voi siete sottorganico, no? Sì, abbiamo bisogno di incrementare il personale. Con tanto lavoro, con tanta famiglia di lavoro che c'è, noi consentiamo il lusso di avere... Si, si continua il solito... come si dice? Di quante unità avreste bisogno, per esempio? Almeno noi, almeno altri 10-15. 10-15? Si, si, su quell'impianto lì. Poi, man mano che si incrementa... Sai, negli altri impianti che funzionano... Si, negli altri impianti... In tutta la regione, quanti posti di lavoro possono essere recuperati? Assolutamente, assolutamente si. Tant'è che molte manutenzioni, molte esigenze ed urgenze che si verificano per guasti, sulla zona del Tirreno, sulla zona dell'Oionio, vengono fatti da lavoratori di questo impianto di coda di volpe, ove c'è una professionalità molto alta, ove c'è un'esperienza che da... Esperienza tante e nate, diciamo. I nostri lavoratori sono non solo qualificati, ma sono a livello di master nel rapporto con la produttività aziendale. Forse è l'impianto più grande che c'è in Calabria. Sì, è il più grande. 250 mila abitanti, eh. Ma poi c'è un altro problema, direttore, che riguarda un po' le sfaccettature di queste vicissitudini, la ricaduta dell'investimento e della manganza delle politiche di gestione fa sì che anche le ragioni d'impresa, cioè l'idea di un'imprenditorialità che possa guardare a questo territorio calabrese con sviluppo e quindi traguardare... Non c'è. Non c'è, non viene, perché non ci sono nel sistema del credito, nel sistema delle garanzie... Non c'è chiarezza, diciamo. Non c'è chiarezza, non ci sono manco le tutele delle garanzie, tra l'altro, per entrare in una piccolissima, poi la ripigliamo, la vertenzialità immediata che noi abbiamo tra noi e la GECO, e che sia noi che l'azienda, la sua ragione di meno, siamo rimasti con il cerino in mano rispetto a che cosa? I comuni non pagano, da anni, da anni. Se lei pensi che questa azienda ha per crediti 5 milioni e mezzo di euro che ha anticipato... Dai 39 comuni... Solo dai 39... Che confluiscono... Che confluiscono... 10 miliardi di vecchialera... Che sono 10 miliardi di vecchialera... E che nel rapporto tra la ragione di impresa e i suoi interessi e la capacità imprenditoriale di un piano industriale che l'azienda ci ha avanzato nel recente passato, che però non si può produrre in un accordo tra le parti, in virtù del fatto che non c'è un contratto di concessione, non vi è la definizione della governanza delle politiche infrastrutturali del consorso senza governo, perché il presidente Manna, nominato da un piuto ultimamente, si è dimesso, ed è il settimo, ottavo presidente che si dimette, come mai si dimette, si dimette diretto in virtù del fatto che dopo due o tre sedute non riesce ad avere la maggioranza nel consiglio di amministrazione, in virtù del fatto che i sindaci vivono questa dimensione nel rapporto con... Sì, perché i sindaci forse giocano un po' perché non pagano, quindi per evitare che ci sia una... Nonostante vi siano dei contratti di servizio... Però io dico, allora la spazzatura non si paga, l'acqua non si paga, la depurazione non si paga... E noi questo dobbiamo capire... Cioè, allora a questo punto... Dove sono i soldi? Il sistema va tutto in tiglio, ma questo perché? Perché la gente non ha i soldi, le famiglie sono povere, il lavoro non c'è, chi il lavoro ce l'aveva perso, quindi non ne usciamo da questa situazione, non ne usciamo se non c'è un'idea su come intervenire in queste cose, però ci sono delle possibilità occupazionali in questa terra, io ne sono convinto che ci sono... Cioè, con questo progetto, con questo finanziamento, c'è già, si parte, no, partiamo con 10 dipendenti, partiamo con 10 dipendenti, nuove, assunzioni... Invece noi teniamo 37 milioni euro, fermi, bloccati, non si sa fino a quando... Non se le prendono di nuovo alla comunità europea? Si rischia di perdere, in virtù di quel percorso che la comunità europea definisce nell'ambito degli impegni di spesa, una volta investiti, una volta trasferiti i soldi, o diventano in realtà cantierizzati, oppure bisogna ritornarli indietro, qui si rischia in questa regione di rimangiarsi e di disponibilità economica, ma questi sono fondi vecchi, fondi 2007-2013, se ci sono nuovi, 2014-2014... Ma non se ne abbiamo spesso ancora questi vecchi, noi facciamo ancora prendere di nuovo... Io ho visto tanti ospiti a questa trasmissione, politici, amministratori, imprenditori... Passano tutti... Tutti di qua passano, tutti dicono belle parole, tutti facciamo, diciamo, però rimangono qua, in questo studio... Sì, perché è giustamente... È grave, è grave... Giustamente ha un problema... È grave, un amministratore, chi è stato eletto dai cittadini, si deve assumere la responsabilità di governare, dare risultati ai cittadini. Io dico questo, perché poi i comuni non pagano, la società che gestisce, non ce la fa ad anticipare i soldini e naturalmente l'anello più debole della catena... L'anello della catena, il più debole, è quello dei lavoratori, e quindi voi siete a due, tre mesi... Siamo già a due mesi, siamo a due mesi senza stipendio, l'azienda purtroppo ci comunica che... Non ha i soldini in cassa... Non che non ha i soldini, diciamo, con le banche è messa male, non gli anticipano più una lira, un centesimo... 37 milioni di euro... Perché noi ribadiamo, volevamo sottolineare che avevamo avuto un incontro in prefettura il 22 agosto, insieme a tutti i sindici, e tutti i sindici... Hanno detto sì. Presente, tutti, ma in 30 anni non ho mai visto tutti i sindici presenti al tavolo del prefetto. Tutti hanno preso impegni, in primis diciamo il sindaco di Cosenza che ha nominato immediatamente il... Sì, e poi dopo questa riunione? Alla parte economica, né determini, né soldi e né certificazioni, niente è successo. Ma tra l'altro, scusami direttore... È grave, non ce la facciamo più direttore, i lavoratori si malaventano... Lo sapete, la nostra storia la conoscete direttore? Eh, conosco. Valle Crati, Gisecco, Salvo... Eh, ma basta, dai, stanno esagerando, ma veramente stanno esagerando, ma... Chi più ne ha più ne... Ma il suo servizio, se non lo voglio, no, no... Ma andiamo tutto al fiume, e basta. E come facciamo? No, vengono in galera, sicuramente, io non ci vai. Ma qualcuno ci andrà, se si continua così. Dicevi? No, dicevo che dentro questa riflessione il paradosso sta nel rapporto delle difficoltà in cui la collettività calabrese paga un prezzo doppio oltre ai problemi del non lavoro, del reddito, ed è quello che la tariffa va pagata e le bollette nelle famiglie arrivano, per cui l'acqua, il sistema depurativo e la depurazione va pagata. Ma se la famiglia non incassa, come fa a pagare? Non solo questo problema. Cioè, se non c'è il lavoro, se non c'è la possibilità di recuperare i soldi che occorrono per pagare i servizi, ma capisco questo. Come si fa? Sì, sì. Come si fa? Ma non riesco a pagare niente. Io che ho un lavoro, non riesco a pagare più le bollette. No, ma le volevo dire... Tanto universitari, mutui, famiglie, problemi giornali, non ce la facciamo più. Non riesco a pagare niente. Io che ho un lavoro, chi non ce l'ha? Le volevo dire, per terminare la riflessione, sulle difficoltà di questa tariffazione. E che le vicissitudini di questi soldini, che poi dovrebbero essere vincolati e determinati per il sistema degli enti locali in un rapporto di servizio, non vengono mai messi in bilancio, non vengono mai utilizzati nei bilanci di previsione per il sistema del servizio per cui essi i cittadini pagano. E' una responsabilità dentro la quale vi è un disservizio istituzionale, rispetto alla quale le politiche di sviluppo vengono meno. E viene meno la possibilità di governare le responsabilità di questi soldi. La cosa più assurda, vengono convocati dal prefetto, questi signori, e prendono in giro anche il prefetto. Prendono in giro anche chi governa il territorio della provincia. Ma stiamo scherzando. Ma poi forse non ce la fanno a recuperare i soldini perché la gente non paga. Non dico che pagano tutti, tutti non pagano, ma quelle che pagano, dove sono i soldi? Ci devono essere, qualcosa ci deve essere per forza, altrimenti il sistema salta. Salta per tutti, per i rifiuti, salterà per la depolazione, salterà per gli enti pubblici, salterà per tutti a questo punto. Il sistema così non regge più. Non può regge così più. Non regge più, perché c'è una fetta ampissima. Deve adesso una mossa, i soldi ci sono, i fondi ci sono. Ho capito, ma se li mettiamo bloccati, che facciamo? Li lasciamo lì congelati a fare che cosa? Perché bisogna... Dobbiamo insistere con i nostri amministratori. Ho capito, però forse entriamo in un altro campo che è un elemento di forte ostacolo nella gestione di questa regione, che è quello della burocrazia. Ancora ci aggrovigliamo tra leggi, sotto leggi, postille, articoli. Ho capito, ma chi muore di fame queste cose non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Vuole che si decidano le cose, si assumano le responsabilità. Perché chi amministra deve assumere le responsabilità. Se non ci sono le possibilità, allora dice guardate, non c'è la possibilità. Perché questo percorso non riesco a farlo perché ci sono degli ostacoli. Ma rimuoviamoli questi ostacoli. Ma prima che sia troppo tardi. Perché io ascolto ogni giorno donne e uomini di questa regione che sono veramente in un momento di... Io direi proprio oltre il drammatico, guarda, oltre il drammatico, mi capita spesso di ricevere delle telefonate anche in diretta, qui in trasmissione, sento la gente anche piangere al telefono e dire ma come dobbiamo fare, come dobbiamo uscirne da queste situazioni. Allora poi vedo, sento, leggo, mi informo e non riesco a capire com'è possibile che noi teniamo soldi fermi della comunità europea oppure li mandiamo indietro all'Europa perché non siamo in grado di spendere. No, non è possibile. Ma di fatti la denuncia che noi oggi ci apprestiamo a mettere nella discussione più in generale, dove sta? Sta nel fatto che il quadro economico di riferimento determinato da investimenti veri e da disponibilità economiche anche rispetto ai nuovi fondi 2014-2020 possono offrire alle istituzioni regionali e alla politica un ruolo e un primato nella gestione delle politiche infrastrutturali. L'acqua, la repurazione, il sistema integrato è uno degli elementi fondanti dello sviluppo. Agricoltura, turismo, benefici per l'agricoltura, ma non solo, le chiedo scusa, una depurazione in grado di poter far funzionare il sistema provoca e ci offre nel sistema energetico disponibilità a costruire politiche di credito, politiche di disponibilità anche nel sistema energetico calabrese. La Calabria dovrebbe essere forse la più ricca d'Europa, solo col turismo e l'agricoltura, la California d'Europa. Eh, ho capito, però, sa quante volte l'ho sentito questo? Sa quante volte ho sentito il turismo, l'agricoltura, i pulmoni vitali, dobbiamo mettere dentro, dobbiamo... Dobbiamo vedere... Ho capito, non deve venire nessuno, perché i calabesi sono in grado di autodeterminarsi. Dobbiamo, la terra è nostra, il mare è nostro, la montagna è nostra, i territori sono nostri, la cultura, la civiltà, la storia sono un patrimonio nostro, dobbiamo essere in grado di mettere in campo un progetto di crescita e di sviluppo, prima che sia troppo tardi. Sì, la pubblicità, tra poco. Ok. Torniamo in diretta, parliamo di depurazione. Stavi aggiungendo qualcosa prima della pubblicità, per quanto riguarda i fondi che ci sono, adesso arrivano i nuovi, ma... Sì, fondamentalmente vogliamo affermare nella discussione e nell'informazione che ci sono in generale, un quadro economico non di difficoltà o di assenza di finanziamenti, ma di una caduta di, come dire, una carenza di liquidità per la messa in moto di queste disponibilità economiche. Se lei pensa che c'è un finanziamento di 35 milioni di Euro destinato al Consorzio Valle Gratia, l'impianto di coda di volti, e che da anni è fermo e rischia di sperdersi tra gli impegni e i mancati impegni delle scelte che debbono essere fatte, in un rapporto in cui l'Aggiunta regionale non riesce a convocare un incontro tra noi, l'azienda e i sindaci interessati alla vicissitudine del Consorzio per definire un ambito che è quello dell'affidamento della gestione dello stesso impianto. Per cui si è fermi da anni in una difficoltà dentro la quale, come dire, la crisi di questa disponibilità mette in forza la ragione d'impresa, la professionità dei lavoratori, il posto di lavoro, la precarietà e lo stesso salario, in uno contesto in cui, come abbiamo detto prima, le politiche occupazionali in questo territorio possono essere, non solo governate, ma essere traguardate rispetto a piani industriali in cui maggiore disponibilità e proiezione, anche rispetto alle scelte sulla formazione, perché sono lavoratori che hanno una qualità, una formazione e una capacità di intervenire nel settore con ambiti molto preparati. Questo viene mortificato da una politica di non governo nella gestione. Quindi le responsabilità della Giunta, le responsabilità del governo regionale sono quelle anche di, come dire, accelerare i tempi delle soluzioni e delle scelte che bisogna determinarsi. Ma devi averla però l'idea, devi averla la soluzione, perché se io ti convoco in una nuova soluzione, che ti dico? Probabilmente il percorso, come dire, gira, è come un cane che si morde la coda alla vicissitudine di questa vicenda, perché fondamentalmente in presenza di una disponibilità economica, in presenza anche di progetti determinati, di ragioni di imprese capaci di poter dare soluzioni, la volontà politica quando manca ha per interesse responsabilità di governo, responsabilità di occupazione di posti di gestione. In queste politiche calabresi sostanzialmente l'impegno di Oliverio era la determinazione, il superamento di questi sistemi, come dire, in cui si determinavano... Ma non è facile. Ma non è facile. Ma non è facile, perché la politica ha i suoi tempi, le sue ritualità, le sue liturgie, cosa che oggi però stride con una realtà completamente diversa. Oggi ci sono i bisogni da governare, ci sono le istanze a cui dare risposte, non si può più immaginare di governare tenendo fede a quelle che erano impostazioni di vecchio stampo, non c'è più, non c'è più. Oggi devi dare risposte immediate, non domani, piuttosto ieri, perché la situazione è davvero drammatica, è davvero drammatica. Allora, con tutto l'amore di questo mondo, con tutta la visione, come dire, ottimistica di questo mondo, con tutta la buona volontà, però se una cosa la tocchi con mano e ti rendi conto che è sofferente una regione, beh, allora devi attuare immediatamente le contromisure per alleviare la sofferenza. Guarda direttore, poi il mio collega ti darà pure del merito perché alcuni dati lui ce l'ha essendo anche uno dei responsabili nell'ambito della produttività aziendale. Vediamo di mettere un po' da parte per due minuti le responsabilità della politica e vediamo di individuare le cause dentro le quali poi anche la cattiva gestione manifesta le sue responsabilità. Allora, il mancato pagamento da parte dei comuni, della retta e le cause e le responsabilità che determinano queste scelte è frutto di interessi molto particolari sostanzialmente. I comuni non pagano, perché non pagano? La tariffazione non viene definita in questo ambito, perché non viene definita? Perché ci sono interessi, perché ci sono tutele dentro la quale si governano, come dire, la gestione dei fondi, come sai? Ci sono dei dati che lui potrebbe offrire. Così individuiamo pure le cause delle responsabilità quotidiane. Vediamo qualche dato. Il comune di Cosenza deve dare alla società 3 milioni e 350 mila euro. Poi andiamo. Gli altri, tutti i comuni. Rende, diciamo, quello è più meglio, diciamo, Rende in qualche modo fa il suo governo. Quanto deve dare? Rende, no, niente, Rende ha già fatto da poco, ha fatto un piano di rientro di 700 mila euro. E diciamo, è a posto. Andiamo avanti. Mondalto 160 mila euro, Castrolibro 193 mila euro. Questi sono i comuni, i quattro comuni che formano il fatturato, il 90% del fatturato della... Che mandano più roba da depurare, insomma, per interno. Si mandano solo con questi quattro qui, diciamo. Quindi bastano questi quattro comuni per dare da lavoro a voi e al sistema. Non parlo, non parlo. Non parlo. Purtroppo non parlo. Non è che ce lo dice l'azienda, l'abbiamo constatato anche noi in persona. Perché anche io come sindacale, io rappresento dei lavoratori, ho delle responsabilità nei confronti dei miei iscritti, non faccio solo il tecnico sull'impianto, faccio anche il responsabile dei lavoratori. E vado in giro ad informarmi, a chiedere, a fare il mio, diciamo, lavoro da sindacalista. E purtroppo riscontro che ci sono questi dati. Ed è grave, è grave. E c'hanno questi dati... Ed è grave. Diventa difficile. No, diventa difficile proprio... Immaginare come si possa gestire. No, ma neanche se viene Marchionni qui a gestire, andrebbe inglese anche lui. Non è possibile andare... Ma vediamo la... va alle crate spalle, vi ricordate? L'hanno fatta fare lì. No, dice, non menzionare. Ma purtroppo... È una vecchia storia. Ma purtroppo stiamo trascinando ancora. Io avanzo ancora cinque... Ah, i colleghi miei, cinque mensilità di quel fallimento. Sono passati dieci anni quasi. E dai, ci ho detto, basta, vai. Hai capito? È purtroppo... Siamo stanchi e per questo noi chiediamo di nuovo al prefetto urgentemente di convocare di nuovo. Vediamo se riusciamo a risolvere una volta per sempre. La regione, i sindici, tutti che... I soggetti interessati, diciamo, per far partorire un sistema serio, costruttivo. Un futuro, il futuro. Un futuro chissà? I servizi. Se non ti dei servizi, chi fa? No, ma non solo. Veniamo un po' di riannodare... Non avete sospeso il servizio, però. No, assolutamente. Noi lavoriamo con serietà e professionale. Va avanti ugualmente, insomma. Noi rispettiamo i cittadini. I cittadini pagano profumatamente un servizio e noi li rispettiamo. Perché non dare un servizio sarebbe veramente da incosciente. Deve avere la coscienza, mettere la mano alla coscienza di questi amministratori che si prendono i soldini, no? E poi non pagano i servizi. Se voi vi fermaste... E' la fine del mondo. L'emergenza ambientale. Il rischio c'è, però, direttore. Il rischio potrebbe accadere. Sì. Hai capito? Se noi ci fermiamo, oppure l'azienda decide di andarsene, non lo so, ci sarà un blocco totale dell'impianto, ci sarà un inquinamento ambientale senza precedente. Senza precedente. E poi dopo chi si assume la responsabilità? I lavoratori. Che hanno bloccato l'impianto. E voi fino a quando potete resistere in queste situazioni? No, ma non penso. Noi lunedì faremo un'assemblea e vedremo cosa... noi dell'UCL vedremo cosa potremmo fare, diciamo, decidere insieme al lavoratore. Sì, percorso quale... Ma sempre con senso di responsabilità, però? Allora siamo stanchi, non ce la facciamo più. Percorso quale? Ormai tre mensilità... Siamo quasi al terzo, diciamo. Più l'avvento delle festività e le difficoltà dentro la quale poi maturano gli altri interessi, determinano una situazione di esasperazione in cui i lavoratori non reggono più la possibilità anche del rapporto tra casa e lavoro, nel senso che non hanno più le possibilità per poter... Quali sono le periodi dell'anno in cui la depurazione è più consistente, il flusso di... E diciamo la parte invernale, diciamo. D'inverno? D'inverno, sì, sì. D'inverno, si lavava molto di più l'impianto... Sì, sì, perché qualcosa di anche, diciamo, acqua piovana le va pure, diciamo. Sennò, diciamo, tutto sommato... Sempre quello standard. Sì, sì, più o meno 4.000, 3, 7, 4.000, 4.004 metri cuba l'ora. Ok. Una considerazione. Vediamo, dico alla luce di queste riflessioni che noi facciamo. Oggi, come dire, il limite della disponibilità nel rapporto tra la tutela e la garanzia del mantenimento, dell'efficienza dell'impianto, tra l'altro non solo avverte queste difficoltà, e cioè il rapporto tra i lavoratori, il salario e la precarietà dentro la quale si consuma questo percorso. Ma vi è anche un altro problema che riguarda l'investimento. Sostanzialmente questo depuratore è nato negli anni 70, con la vecchia amministrazione di Rende. Chi lo volle? Lo volle, mi pare, Cecchino Principe. Cecchino Principe, uno dei... È stato Lungi Mirandi. Lungi Mirandi, in cui questa vicissitudine... Fa costruire un'impianto di depolazione. Come no? Ma per scusa. Tant'è che poi, però, le disponibilità dentro la quale oggi, però, si misura anche la validità di questo impianto e la possibilità di farlo divenire elemento, come dire, produttivo in questo ambito, è che questo impianto deve essere innovato. L'investimento è legato anche alla manutenzione, non solo alla manutenzione, ma all'allargamento e al raddoppio. A 30 anni questo impianto, no? Certo, nasce come inceneritore. Oggi gli inceneritori non sono più la disponibilità dentro la quale si muove l'investimento del settore. Ma siamo a una depurazione, siamo a livelli molto più alti. E questi... Il mancato, come dire, investimento... Il mancato... Quanto meno raddoppiare la possibilità di lavoro, no? Come no? Si finisce perché questo impianto finisce per essere un soletto. Altre dici comune con questo finanziamento. C'è la possibilità. Si potrebbe aprire... Non solo, ma con la costituzione dell'autorità idrica provinciale. L'autorità idrica provinciale dovrebbe non solo investire molto più comuni, ma dovrebbe traguardare l'intera provincia. Quindi allargarsi fino alla foccia del Crati, fino a Trebisace. Quindi passare attraverso la piana di Sibere rispetto a tutto il sistema della depurazione potrebbe un centro nucleo vitale per tutta l'aria. Non dico che tutta la provincia, ma insomma quasi. Certo, certo. Però per smaltemente dei fanghi non abbiamo una piattaforma, ma noi in Galabria, per smaltere i fanghi, dobbiamo andare in Sicilia, in Sicilia. Ma chi sa se vengono fatte, se viene fatta questa operazione. Sino chissà se la fanno questa operazione. Dovrebbero farla, però il problema è quello che ad oggi non si può prevedere... Quanto costa depurare i fanghi? Costa, costa. Non lo so, adesso con le cifre non lo so male. No, dico quanto costa depurare i fanghi. E non si può prevedere, tra l'altro, un raddoppio, un investimento in questo settore e non prevedere una piattaforma per la gestione dei fanghi, che è assurdo. Significhano trasporti, interessi di parte, significhano connubio tra le politiche di disponibilità economica. Questa è la prima cosa che bisogna fare, una delle primissime cose, per essere autonomi come regione rispetto a... Tant'è che 15 giorni fa abbiamo rischiato il blocco dell'attività, perché l'azienda che gestisce questo rapporto per trasporti di fanghi era andata in crisi per la situazione aziendale e si erano bloccate le disponibilità, per cui si rischiava il blocco. E' fortuna si è sbloccata. Poi si è sbloccata per un fatto di emergenza. Si è una reggima normale in questo momento. E per noi è un problema, è l'ennesimo problema nel rapporto tra l'investimento e le politiche. Ma potrebbe essere attrezzato, cosa di volte... Assolutamente, assolutamente. C'è un scenario ambissimo, come no? E' un povertino, i poverti ci hanno di decidere, una volta per sempre, si dessero un tavolo e parlare per il futuro, non di oggi, per il futuro. Noi problemi ci sono, lo sapete più di voi, lo sapete meglio di noi, come si dice. Siamo così, aspettiamo così. No, 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 noi oggi abbiamo almeno tre impegni su cui consumare il percorso dentro le risposte che la politica deve assolutamente darci. Vi è stato uno sforzo nel determinare la legislazione nuova. La Giunta regionale ha parlato di gestione pubblica e nell'ambito della gestione pubblica di sistema integrato che faccia superare la privatizzazione del settore, che introduca un'azione pubblica. Però oggi il pubblico pare che significa nulla, significa nessuno. Il pubblico non viene rappresentato dall'interesse collettivo, dall'interlocutore. Non abbiamo interlocutore. Perché i sindaci e la stessa autorità che dovrebbe costituirsi non riesce a mettersi intorno a un tavolo e determinare il governo, la governanza di questa gestione. Quindi in questo momento questo avvacazio di potere è gestita da loro, dai lavoratori dipendenti e dall'azienda. In una vicissitudine di crisi in cui ci hanno lasciato col cerino in mano a noi e all'azienda. Un'azienda in crisi di liquidità rispetto al fatto che avanza 5 milioni e mezzo di euro e i lavoratori che non si pagano il salario rispetto a una crisi dentro la quale si muove l'azienda. Ma questo vale per tutto il sistema. Ho capito, ma chi dovrebbe sbloccare, con chi dovreste parlare, con chi dovreste incontrare. Il prefetto è l'unico dell'equatore in questo momento. Oggi noi dobbiamo dare atto al prefetto Tomau di essere stato in questo periodo, agosto in poi essere stato l'unico sostenitore di questa risposta. Convocato il 22 agosto. Anche perché l'emergenza in questo settore invoca una partecipazione pubblica di merito. Noi vorremmo che il prefetto costruisca un tavolo con l'aggiunta regionale, perché a questo punto il problema è la responsabilità a quel tavolo, per definire l'ambito della concessione e l'ambito della definizione dell'autorità. Se non si muovono questi interessi a margine e non si crea il governo... Che cosa si rischia? La paralisi, l'emergenza, la non depurazione... E a questo punto da parte della Comunità Europea vi è un'ulteriore, anche per i fondi del 2017, un'ulteriore sanzione. È datata la crisi. Solo nel 2016 abbiamo pagato 60 milioni di multe che potevano essere utilizzate. Ma così come nel passato. Oggi più che mai i fondi relativi al piano strutturale 14-20 sono fondi disponibili, costruiti dentro un piano di investimento. E i nuovi che sono in disponibilità per far decollare questa regione nelle politiche infrastrutturali. L'infrastruttura non sono solo le autostrade, le infrastrutture sono pure il sistema idrico calabrese da costituire. La depurazione è una delle politiche infrastrutturali. Mare pulito, l'abbiamo detto agricoltura, occupazioni, risposte di merito rispetto alle scelte. Ma anche l'utilizzo dei processi energetici che possono dare. Un depuratore che funziona, dico, offre energia. E quindi questa è una delle... No? Certo. Una delle grandi difficoltà. Una delle vertelle, tra l'altro, anche in questo. La stessa iniziativa di mobilitazione oggi a Catanzaro, nel rapporto con l'iniziativa di mobilitazione. Paga il prezzo di non avere da parte della giunta regionale tavoli di merito che possono governare questi processi produttivi. Non si può arrivare al conflitto tra il rapporto tra lo sciopero generale e la manifestazione delle cose che non si fanno. In una regione dove le istituzioni funzionano, i tavoli di merito sui progetti industriali sono... Avete partecipato al cantiere Calabria voi, sì? No, non abbiamo partecipato, non ci hanno invitato. È stata soltanto un'audizione sostanzialmente, ma non una partecipazione diretta a questa vicissitudine. Un'audizione avete portato quelle che sono le vostre esigenze? Sì, le nostre esigenze, le nostre manifestazioni. Però non siamo soggetti che determinano. Credo che l'elemento di un partenariato di merito che possa determinare in un governo delle trattative su fatti specifici deve essere recuperato da parte della giunta, altrimenti discutiamo apprendemente di assistenza. Quindi allora voi aspettate che il prefetto Tomao, che è sempre prontissimo, sempre tempestivo nelle sue cose, convochi un tavolo per arrivare a una soluzione del problema o quantomeno iniziare un percorso per la soluzione del problema? Perché mi pare difficile che possa... Sì, una notizia c'è pure, nel senso che oggi l'azienda, il responsabile dell'azione sindaca dell'azienda ha avuto un contatto con il prefetto, si sono visti mezz'oretta, un'oretta, dove si sono manifestate le difficoltà anche dell'azienda, perché a questo punto l'azienda si sta tirando pure fuori dalle disponibilità, non solo quella di non pagare, che è un problema vero per noi ed è un problema anche di conflitto tra noi e l'azienda, ma si sta tirando fuori dalle disponibilità di non poter più andare avanti. E oggi dal prefetto, pare che il prefetto si sia impegnato nei prossimi dieci giorni a rivedere un tavolo di negoziazione con la Regione e con i sindaci, per riconsiderare le possibilità di una riflessione. In pratica rifare la stessa riunione, il stesso tavolo che si è trovato il 22 agosto, al 17 novembre non è accaduto nulla. Nessuno vi ha detto niente, stiamo vedendo, stiamo provvedendo, stiamo facendo, no, niente, non avete sentito nessuno. E questo settore va così? Cioè cammina da solo? Con il pilota automatico. E' un pilota automatico. Purtroppo non è così, ci sono dei professionisti, lavoratori, che quotidianamente fanno il loro lavoro con serietà e professionalità. Questo lo voglio sottolineare. Ah beh, questo mi pare si evinca dal fatto... Nonostante ci... non bagano... Si evinca dal fatto che non c'è stata un'emergenza, quindi questo è già una nota di merito a chi lavora in questo impianto. Però non so fino a quando porreggio la situazione di... Adesso te lo dico. Bisogna dare una risposta, bisogna dare, come dire, quanto meno dire, abbiamo iniziato un percorso e contiamo di chiudere tra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi. Io so che per cinque mesi ho una serie di problemi da risolvere, però poi la scadenza della data indicata comincia un nuovo percorso. Invece, se non dovesse arrivare questo messaggio, insomma, siamo sempre alle... Messe male. La storia si ripete, come se riavvolgiamo il nastro e rivediamo le vecchie cene. Bene, io ho assistito a assemblee molto forti, con grande tensione nella vecchia Valle Crati, no? I sindaci, i lavoratori, le assemblee continue, lo sciopero, il blocco della strada, insomma, ho vissuto tutta questa vicenda e pensavo che dopo questa fase turbolenta... Il scenario si ripete, purtroppo si sta ripetendo di nuovo. Spariamo di nuovo, ma si sta ripetendo di nuovo. Io penso che anche oggi la disponibilità che la TEN e l'Europa ci offre dà la possibilità di mettere nel dibattito politico una ricaduta di merito rispetto alle questioni. Oggi più che mai, anche per il prefetto, le difficoltà che finora ha riscontrato nella convocazione dei sindaci che è la possibilità e la disponibilità di portare a compimento una sorta di problematica vera, di responsabilità delle istituzioni. Oggi le istituzioni non possono continuare ad essere un differenziale negativo. Debbono rappresentare uno strumento di operatività rispetto alle scelte che facciamo. Anche perché siccome si opera in un settore in cui sia per l'acqua, sia per la depurazione, si pagano le tasse, la tassazione viene trasferita sul salario e sulla vicissitudine dei cittadini, questo servizio va offerto, non è ipotizzabile. È tutto questo circuito. Acqua da bere, acqua per investimenti, acqua per il sistema dell'agricoltura, mare pulito. Sono le condizioni dentro le quali le responsabilità dei sindaci sono palesi. Non possono gridare all'emergenza solo nei periodi in cui sostanzialmente si determinano situazioni di grande responsabilità. L'ente superiore dovrebbe in qualche modo dire, oh, ti blocco i finanziamenti, ti fermo un attimo le tue cose se non metti... Non solo, oggi più che mai, nella costituzione dell'autorità idrica, per come è concepita oggi la gestione di questa nuova governanza, dovrebbe scendere anche la partita del rapporto tra la fattura, come si chiama? Il pagamento diretto. Il pagamento diretto verso l'autorità. Quindi questo ci garantirebbe una disponibilità nel rapporto tra l'imprenditore, la ragione d'impresa, come dire, la crisi dell'equidità che oggi si manifesta perché nessuno parla. La depolazione pure è sottovalutata. Comunque è inconcepibile che il sistema depolato è l'unica in Italia a non avere un sistema integrato. Allora, questa è la trasmissione che oggi ha un doppio appuntamento, tra un po' parleremo di politica e del PD in particolare. Vorrei ringraziarvi per la disponibilità che avete dato. No, noi facciamo questo mestiere. Facciamo una sedia, è corretta, grazie. Facciamo questo mestiere, cerchiamo di mettere in campo gli elementi che possano servire ai cittadini di capire come funziona e quali sono le problematiche. Questo è uno spazio di libertà, naturalmente a disposizione di tutti, chiunque ha problematiche da esporre, di interesse collettivo, naturalmente. Grazie. Noi lo ospitiamo. Grazie per essere stati con noi. Grazie. La pubblicità e poi cambiamo argomento, parliamo del PD, l'ospite è Giuseppe Mazzuca, già consigliere comunale a Cosenza. Ci vediamo tra poco.